Nel comune di Terra Nuova Bracciolini è ripresa la distribuzione alla popolazione dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta. Un servizio che nel tempo ha fatto registrare grossi risultati. Ecco gli orari e i luoghi dove si potranno ritirare gratuitamente i sacchetti. Questo avverrà nel parcheggio del Hop in via Carlo Alberto Dall'Achiesa nei giorni del 29 agosto del 5 settembre e del 12 settembre, sempre di mattina dalle 8 alle 13. Nel caso, qualora non si riesca a effettuare il ritiro in questi giorni, comunque dal 14 settembre al 3 ottobre in via del fiume presso il nostro centro di raccolta si potrà comunque rivolgersi per andare a ritirare i sacchi. Terra Nuova Bracciolini è uno dei comuni più virtuosi in tema di differenziata. I dati collocano il comune al 68%. L'obiettivo è quello di incrementare il numero e magari di raggiungere quota 70%. Abbiamo intenzione comunque di non mollare su questo ma di continuare ad investire sia in energia che anche con risorse finanziarie per far sì che ci sia una certa attenzione a quello che è il rispetto dell'ambiente e della gestione dei rifiuti.